Lei ha deciso di correre da solo, sono in previsione alleanza, apparentemente si è vociferato di un possibile accordo con Giuseppe Rossetto, già sindaco di Alba, se non ricordo male, per due mandati. Insomma, quali sono le sue previsioni? Ho deciso di correre da solo, devo dire che fino all'ultimo si è tentato di trovare un accordo anche con Giuseppe Rossetto, ma non ci sono state le condizioni, non per problemi di carattere personale, ma ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il programma e la scelta anche di alcune cose determinanti per amministrare la città di Alba. Ecco, quindi lei correrebbe da solo in sostanza perché Giuseppe Rossetto sarebbe in rappresentanza di Forza Italia, mentre lei starebbe con il nuovo centrodestra, tanto per dare un riferimento alla politica nazionale. Sì, però vorrei precisare, diciamo che la lista più importante che mi sosterrà è una lista fatta di giovani e quindi è una lista civica che si chiama rinnovamento civico. Assieme ci sarà anche il simbolo del nuovo centrodestra, c'è un'altra lista civica in fase di costruzione con altre persone. Non stiamo ancora a svelare i nomi perché ho dei contatti anche con altre realtà della città che possono magari condividere il mio programma, il programma, diciamo, delle liste che mi appoggiano e quindi siamo ancora aperti al dialogo. Ecco, a proposito di programma, quali sono i suoi progetti? Perché i cittadini albesi dovrebbero dare il voto a Sebastiano Cavalli? Ma noi abbiamo un programma molto articolato e quindi partiamo dal rilancio della città che negli ultimi cinque anni, devo dire, che è stato un po' opacato, insomma, da questa amministrazione, anche per fatti contingenti legati forse alla crisi economica, però credo che si potesse avere un po' più di coraggio e far ripartire la città. Un altro tema che ci sta a cuore è quello della sicurezza, per cui noi crediamo che una città come Alba deve essere sicura, deve permettere ai cittadini di viverla fino in fondo anche nelle ore, come dire, serali e notturne. Quindi non lasciare abbandonate alcuni posti della città ad eventuali atti vandalici o comunque a problemi di sicurezza in genere. Poi è chiaro ci sono dei problemi un po' che da tanto tempo questa città soffre, uno di quelli è l'infrastruttura, per cui il mio impegno e quello della mia giunta, eventualmente dovessero gli albesi darmi fiducia, è quello di fare in modo che si realizzano le infrastrutture più importanti. Ne dico una su tutte, che è quella del Terzo Ponte, che dovrebbe decongestionare quello che è il traffico che arriva da Corsolanghe e anche da Roero e quindi dal Mussotto. L'altra cosa è quella di dare attenzione ai giovani e costituire anche un fondo di solidarietà e di aiuto anche per tutte le famiglie che sono in difficoltà e devo dire che ce ne sono tante. Benissimo, allora in bocca al lupo e grazie. Grazie a lei.